Abbiamo investito come amministrazione oltre 800 mila euro su due misure per il sostegno al commercio che partiranno la prossima settimana e che vedranno la loro realizzazione concreta nel corso del mese di luglio. Abbiamo aspettato fino ad oggi per vedere come si comportava il governo e la regione Piemonte sul contributo e sostegno al commercio e le attività economiche. Ora che abbiamo le idee più chiare di come si sono mossi loro, noi interveniamo di conseguenza. La prima misura è un contributo a fondo perduto per tutte quelle attività commerciali che sono state escluse dal bonus Piemonte. Quindi un contributo fisso per sostenere le spese che hanno sostenuto nei mesi di lockdown e le spese per la ripartenza. La seconda misura, molto interessante, il Comune di Novara mette a disposizione 400 mila euro che faranno da moltiplicatore per un sistema di erogazione di finanziamento garantito da confidi per consentire alle aziende che faranno richiesta in maniera molto veloce, quindi con pochissima documentazione e nell'arco di 15 giorni di ottenere un finanziamento dai 10 mila ai 40 mila euro col pagamento degli interessi da parte del Comune di Novara con due anni di preammortamento in modo tale che ci sia la possibilità di avere liquidità immediata per pagare fornitori, aziende oppure personale e quant'altro oppure anche materiale per la ripartenza, in modo tale che queste aziende poi per due anni non abbiano più questo problema e comincino a restituire solo la quota capitale nell'arco dei quattro anni successivi. Un sostegno economico di liquidità forte per il sistema e il tessuto economico della città di Novara che ha l'obiettivo anche di tenere lontano qualche malintenzionato che vuole magari speculare prestando denari a tassi usurai.